Amici telespettatori, buonasera, ci siamo, è venerdì e naturalmente c'è Polifemo. Ci avviamo verso il Natale, verso queste festività che ci rendono buoni, diciamocelo. Voglio dar vita a tutta una serie di puntate di Polifemo che possano davvero farci vivere e sentire il Natale, ma soprattutto attraverso gli aspetti della solidarietà e attraverso la valorizzazione del territorio. Questo albero è assai significativo alle mie spalle. Vi do un po' l'impalcatura di Polifemo, ho parlato di valorizzazione del territorio, ho parlato di risorse e realtà presenti sul territorio in grado di valorizzarlo. Una di queste è certamente lo Ionion Shipping Consortium, una realtà che scopriremo, appunto un consorzio di agenzie marittime che davvero dà lustro al territorio tarantino e non solo, visto che dà una dimensione internazionale attraverso la propria attività alla nostra città. Ho pensato allo Ionion Shipping Consortium da parecchio tempo, ma poi l'arrivo della Cavour a Taranto per i lavori mi ha fatto così, ho detto che questa è una città di mare e allora davvero diamo spazio a questa eccellenza, lo Ionion Shipping Consortium. Questo nella prima parte. Poi ho detto che si avvicina il Natale e quindi dobbiamo davvero sentirlo attraverso iniziative di solidarietà. Una di queste è certamente una bellissima iniziativa che vede il coinvolgimento nell'attività sartoriale delle detenute, un'iniziativa partita dall'Associazione Stella Maris insieme con la direzione della Casa Circondariale di Taranto. Poi ancora una nuova parte, sempre all'insegna della solidarietà, una bellissima iniziativa che vede protagonista appunto un'azienda del nostro territorio, la Castiglia, che ha voluto dare un contributo, ecco il momento, dicevo, solidaristico, un contributo, un aiuto alla famiglia di una persona che non c'è più, di una delle tante vittime appunto dell'Ilva. Quindi anche quest'altro momento di solidarietà. E poi una serie di pillole, di puntate dello sportello del cittadino, perché questa è, come dire, il punto di partenza, la caratteristica di Polifemo, dare spazio, dare voce alle segnalazioni dei cittadini. Un Polifemo dunque ricco per tutti i gusti, una serie di puntate di Polifemo natalizie, per cui saremo tra virgolette meno cattivi, nel senso buono del termine. Vogliamo parlare di solidarietà, vogliamo parlare di Natale, vogliamo sorridere, perché a Taranto purtroppo i problemi sono già tanti. Una puntata di Polifemo particolare, in cui vogliamo conoscere una realtà del territorio tarantino e non solo, lo Ionian Shipping Consortium, un consorzio appunto di agenzie marittime, una realtà che davvero fa crescere, sta facendo crescere l'area ionica, perché se noi consideriamo Taranto, se consideriamo l'indissolubile legame tra la nostra città, Taranto, e il mare, beh, ovviamente queste realtà economiche, io dico produttive del territorio, vanno certamente considerate, valorizzate, perché rappresentano poi il volano dell'economia. Ed è un discorso non solo localistico, limitato a Taranto, perché quando parliamo di mare, quando parliamo di agenzia marittima, beh, non è certo una dimensione locale, tutt'altro parliamo di dimensione internazionale. E ho il piacere di avere al mio fianco il capitano Luigi Guida, che appunto è il presidente. Oltretutto con Luigi Guida ci conosciamo da oltre 20 anni, siamo cresciuti insieme ed è bello poi vedere che tanti sacrifici vengono premiati dalla vita di tutti i giorni, dai risultati. E soprattutto io riconosco a Luigi Guida il merito di essere rimasto legato a Taranto. Vediamo tantissimi giovani valenti che per varie ragioni lasciano il nostro territorio, invece Luigi Guida ha detto io voglio realizzare qualcosa a Taranto e l'ho realizzata. E allora, partiamo innanzitutto dalla presentazione di questo consorzio, di questa agenzia marittima. Com'è nata? Perché è nata? Sì, ti ringrazio Luigi. Ci diamo del tu perché sarebbe un'ipocrisia. Totale, assolutamente. Hai dato molti spunti di riflessione sull'introduzione che hai fatto, soprattutto il fatto che realmente quello della navigazione, quello del trasporto marittimo è probabilmente il paradigmatico mercato globale perché il trasporto internazionale delle navi mette in contatto con tutto il mondo sistematicamente il mercato e il mondo, il più grande mercato in assoluto. Taranto è uno dei porti più importanti da questo punto di vista perché è lo scalo naturale di quelle che sono le merci strategiche che sono l'acciaio, il petrolio, il cemento e quindi una concentrazione così importante di traffici al porto di Taranto necessitava di servizi, necessita ancora adesso di servizi che negli anni, nei secoli ormai praticamente possiamo parlare, è sempre stato slegato. Quindi ognuno coltivava il proprio orticello, poi purtroppo abbiamo conosciuto un periodo che odio e amo definire di colonizzazione. Anche perché, perdonami Luigi, purtroppo questa città su vari fronti è divisa, ci sono molte gelosie, divisioni, ma in vari ambiti, non solo nella politica, anche nell'associazionismo, in tutto, grazie a Dio questa è una realtà che ha saputo non dividere ma unire. È proprio per questo perché nasce l'idea di unire quelle che sono le professionalità marittime del territorio perché la maggior parte dei nostri soci siamo quasi tutti coetanei e quindi è un'età relativamente giovane, con aziende che hanno anche più di un secolo di vita, però si sono tramandate di generazioni, quindi sono tradizioni familiari. Poi abbiamo anche la figura del Cavaliero Valentino Generilli che è il decano degli agenti marittimi che è il nostro presidente onorario, che ci onora. Una persona che conosco e che ama Taranto più della sua vita. Esattamente, proprio in un altro punto di vista importante, quello che mi hai dato come spunto di riflessione, il fatto che la nostra professionalità, spesso e volentieri, è acquisita all'estero, io per potermi spendere professionalmente ho dovuto perfezionare o iniziare la mia formazione sia in Italia, ma fuori Taranto, che all'estero, in Nord Europa, in Medio Oriente. Acquisire quelle esperienze, i modelli. Acquisire il modello di esperienza da voler spendere a Taranto, quella è la cosa importante. Allora ci siamo incontrati, ed era un'idea che ormai andava avanti da anni, noi ci siamo sempre considerati colleghi, non ci siamo mai considerati concorrenti e un giorno abbiamo deciso di unire questo sodalizio informale, amichevole, in un sodalizio formale e quindi lavorare insieme, infatti il nostro motto, il nostro hashtag diremmo adesso è insieme e insieme abbiamo capito che realmente si possono raggiungere dei risultati che fino a pochissimi anni fa erano totalmente impensabili. Le realtà produttive, ma noi stessi, i nostri clienti, i nostri fornitori, riconoscono in noi un'idea vincente, convincente e la prospettiva di riuscire a portare sempre qualcosa in più, perché come dicevi Taranto è una città che giace sul mare, ma non è propriamente ancora una città di mare commerciale, perché io per poter fare il nautico e poter studiare da capitano ho dovuto frequentare il nautico di Brindisi, perché all'epoca il nautico a Taranto non c'era. L'università, l'economia di Mariettima, me la sono andata ad assaporare in Terra Ligure, quando ho frequentato l'università di Taranto. Però hai avuto il merito, come dicevo, di ritornare qui a Taranto, perché vediamo, dicevo, tanti giovani, ragazzi universitari che vanno al nord a studiare e poi purtroppo rimangono lì e tornano a Taranto solo per Natale e Pasqua, invece tu sei un cavallo di ritorno. Sì, perché Taranto è una realtà affascinante, ma difficile. Perché difficile? Taranto si è sempre creato una situazione dove demolire era molto più semplice, del resto per demolire basta un martello. Per costruire ci vuole passione, competenza, un insieme di professionalità e soprattutto gioia ed amore, che è quello che è il nostro, il filo conduttore di ogni nostra operatività, è farla con entusiasmo, gioia e l'amore per quello che si fa, ma soprattutto l'amore per il territorio. Ecco, vediamo come agite, come immergiamoci, diciamo, in questa realtà dello Ionian Shipping Consortium. Ecco, il modello, la giornata operativa. Ora abbiamo presentato, diciamo, storicamente questa realtà, perché è nata, come è nata, le esperienze motivazionali che hanno appunto determinato la nascita. Ora vediamo proprio operativamente, ecco, facciamo finta che questa mattina noi abbiamo raggiunto per realizzare questa intervista, ora terminata l'intervista ovviamente avrai una lunga, lunghissima giornata di lavoro. Come ci si organizza? Cosa si fa in concreto? Quello che noi diciamo, che ogni giorno da noi è il primo giorno di apertura. Ogni giorno è diverso, è sorprendente, perché spesso e volentieri non sappiamo quello che potrà accadere durante la giornata, perché le navi sono imprevedibili. Infatti, perdonami, per realizzare questa intervista è stato un precipizio, perché dovevamo ovviamente far coincidere le nostre esigenze, ma soprattutto con le tue. Tanto è vero che molte volte abbiamo rinviato proprio così, in zona Cesarini, sul filo di lana, ma perché ovviamente gli impegni erano tali e tanti, imprevedibili, che riuscire a beccarti è stata un'imprisa? Le navi spesso e volentieri lavorano sull'urgenza e la nave non può perdere tempo, perché il tempo è danaro. Quindi noi siamo anche pagati, il nostro lavoro è quello di far risparmiare quanto più possibile, rendere la performance di una nave quanto più efficace in assoluto, perché l'armatore per quello si affida a noi, così come i caricatori e i ricevitori. Quindi la nostra giornata tipo è entrare in ufficio, è il momento in cui... Tipizziamo la giornata. Allora, considerando il fatto che le nostre giornate durano esattamente 24 ore e il nostro calendario lavorativo è... Infatti mi dicevi giustamente il pranzo è un optional. No, il pranzo non è un optional, è un optional particolarmente costoso, visto e considerato che spesso e volentieri anche diciamo che su 365 giorni l'anno si pranza a casa, nella migliore delle ipotesi, una decina di volte, perché le festività, il Natale che si sta avvicinando per esempio, o la notte, l'orologio sono veramente delle convenzioni. Gli orari per noi sono realmente delle convenzioni da dover rispettare nei confronti dei nostri clienti, non tanto, soprattutto nei confronti delle nostre famiglie, che sono di una pazienza infinita per riuscire a interfacciare con quello che sono i nostri tempi, che sono i tempi delle navi. Dicevo allora, come si struttura la giornata? La giornata... Contatti... I contatti sono spesso e volentieri veramente infiniti, nel giro di una giornata si possono contare anche centinaia di telefonate, migliaia di email che vengono smistate, ma realmente stiamo parlando di svariate migliaia di email che vengono smistate in quelli che sono le donne, gli uomini che lavorano per la nostra organizzazione, per i quali ogni parola di elogio è sempre troppo poca, perché realmente stare dietro a una situazione in continua mutazione è veramente molto complicato. Quindi cerchiamo di comprendere meglio questi contatti, come avvengono l'oggetto, le destinazioni e quant'altro. Allora, noi immaginiamo la nave... Giusto per far capire, perché abbiamo questa realtà però proprio operativamente. La nave, consideriamo come il concetto assoluto del project management, cioè una nave arriva e il momento in cui la nave arriva, stiamo parlando di una piccola città dove vivono realtà produttive che sono i carichi che vengono trasportati e dove vivono l'equipaggio, le persone che ci abitano sulla nave e hanno bisogno di ogni tipo di servizio, anche il momento in cui una nave parte da un porto qui vicino, che potrebbe essere anche Crotone piuttosto che Augusta in Sicilia, e anche in poche ore di navigazione possono avvenire una infinità di variabili. Dal marittimo con il mal di denti, cosa che ci stiamo occupando proprio oggi, che ha bisogno di andare dal medico, a un problema assicurativo, a un problema legale o semplicemente, quello che è il nostro mestiere reale, quello di assistere la nave, il comandante e l'armatore in tutte quelle che sono le pratiche burocratiche e commerciali, affinché lo scalo a Taranto sia il più veloce possibile, il più accogliente possibile, che è la nostra mentalità, fare in modo che la nave e il suo equipaggio, che potrebbe essere una nave che per la prima volta scala il porto, si senta a casa. Questo è uno dei nostri punti di forza, fare in modo che la nave e l'armatore abbia un'accoglienza tale da sentirsi realmente parte di un sistema, che è quello città, porto, azienda, a totale disposizione, che è il motivo principale per il quale esiste la figura dell'agente marittimo raccomandatario, che è il nostro mestiere, raccomandatario, proprio la parola stessa dice che bisogna raccomandare la nave, il comandante e il suo armatore presso le istituzioni del porto, che possono essere la Capitaneria di Porto, la Guardia di Finanza, la Dogana, la Polizia di Frontiera, l'autorità portuale, i caricatori, i ricevitori, i fornitori, sono un'infinità di soggetti che intervengono, che si interfacciano a un unico soggetto, che è l'agente marittimo raccomandatario, che per qualsiasi necessità è il punto di riferimento per ogni esigenza, dalla standard commerciale alla più svariata, che potrebbe essere realmente il marittimo col mal di denti che ha bisogno di un medico, allora lo si porta dal dentista con i nostri autisti e si fa in modo che non ci sia mai nessun tipo di intoppo e non ci sia mai la risposta non lo so o non so che fare in quelle che sono, o non si può fare in quelle che sono le richieste. Quindi c'è sempre un continuo movimento, un po' come il mare, un continuo movimento per qualsiasi esigenza e necessità operativa e lavorativa. Ecco, ovviamente voi operate in un contesto molto ampio. Il rapporto con gli altri soggetti istituzionali a vario titolo rappresentativi dei territori in cui ovviamente vi recate, siete presenti, operate. Perché, dicevo, il vostro ruolo, specialmente in ambito marittimo internazionale, non è un ruolo di monade, isolata, tutt'altro, ma è un interagire con mille soggetti e anche con realtà internazionali che hanno, per così dire, una loro configurazione altrettanto operativa. Infatti, nelle professionalità incluse nel consorzio ci sta la mediazione marittima, che è lo ship broker, colui che mette in relazione gli armatori con i noleggiatori. C'è il raccomandatario marittimo, che è colui che mette in relazione l'armatore con le istituzioni, i caricatori e i servitori, è il doganalista, che è colui che rappresenta la merce indogana, il momento in cui è un po' come un accompagnare, da un punto di vista documentale, la merce al di là della frontiera nazionale. Quindi è l'intera gamma e in più abbiamo anche i marine surveyori, i periti ed esperti marittimi, che riescono a comprendere il momento in cui c'è una difficoltà tecnica o una verifica di prevenzione o di valutazione dei rischi e riuscire a compilare delle relazioni tali da coprire, da un punto di vista assicurativo, la spedizione marittima. Queste professionalità, questi soggetti, ognuno di noi ha un settore di riferimento intercambiabile che parte dalla Capitaneria di Porto, quindi l'autorità marittima del governo del Porto, l'autorità portuale, la Guardia di Finanza, la Dogana, i caricatori, le imprese portuali, i ricevitori, le ditte di trasporto, le ditte di fornitura, i servizi tecnico-nautici, che sono la componente più importante di un porto, perché un porto è tale nel momento in cui ci stanno i rimorchiatori, i piloti, i ormeggiatori, che sono figure di importanza fondamentale, i barcaioli, il servizio di raccolta dei rifiuti, la prevenzione antinquinamento, la guardia e i fuochi, sono servizi essenziali affinché un porto sia sicuro ed operativo. Ecco, vedo che abbiamo elencato una svariata, una figura, un'enorme serie di soggetti. Andando così diciamo al personale, a qualche episodio personale, quale aneddoto, qualche così momento di vita vissuta in questo interfaccia, in questo interfacciarsi con questi soggetti istituzionali, ricordi con piacere? Qualcosa che ti è rimasto scolpito nella mente, perché poi ovviamente quando si va all'estero e ci si interfaccia con altre realtà, si scoprono abitudini, costumi, le diverse, diciamo, la forma mentis di ogni popolo, di ogni realtà. Quale episodio, ecco, qualche aneddoto, qualcosa che più ti sta a cuore, ti ha colpito in questa esperienza, in queste esperienze internazionali? Parlando di esperienze internazionali, veramente c'è l'imbarazzo della scelta. Questa domanda mi ha preso un attimo alla sprovvista, vedo scorrere in maniera veloce e caotica le... Il libro dei ricordi. Centinaia di aneddoti particolari passati in Baltico, in Nord Europa, in Africa, in altri porti d'Italia, d'Europa, in Spagna, in Francia, in Germania, in Croazia, in Grecia, ci sono tantissimi aneddoti particolari. Uno in assoluto che mi viene in questo momento, che è legato alla mia personale esperienza professionale, è in Russia, una decina di anni fa, più o meno, quando il comandante, prima di toccare il porto, mi guardò e disse Luigi stai attento perché adesso stiamo entrando di nuovo in Unione Sovietica. Questa non è più una nave, ma è una macchina del tempo ed era un porto remoto della Russia settentrionale dove sembrava realmente di stare in Unione Sovietica, quindi invece di stare nel ventunesimo secolo eravamo tornati in un periodo imprecisato. Un viaggio nel tempo. Un viaggio nel tempo, in un futuro distopico dove all'improvviso si era completamente perso il senso del tempo, dove tutto si svolgeva in via veramente strana e particolare, con abitudini totalmente differenti dalle nostre. Quindi è reale il fatto e così anche il contrario. A volte capita di avere a che fare con navi che scalano il porto di Taranto, che portano le loro tradizioni. Abbiamo molti clienti del Medio Oriente che vengono qua, con i quali abbiamo anche festeggiato la fine del Ramadan, per esempio, e allora ci siamo trovati durante le pause lavorative con l'equipaggio che stava rostendo il montone sulla coperta della nave e invitava sia i lavoratori, noi delle agenzie e gli altri soggetti che stavano a bordo a unirsi al loro banchetto. È stato qualcosa di particolare, oppure con altri membri l'equipaggio dell'estremo oriente, piuttosto all'improvviso trovarsi in un banchetto indiano ed essere convinti di stare mangiando delle verdure, invece quelli erano dei peperoncini piccanti da ostione, quindi sono tanti i fattori. Hai menzionato varie esperienze internazionali, ma la nostra realtà, il nostro sistema Taranto, quanto è distante da queste realtà? Perché noi cerchiamo di sprovincializzarci, però chiaramente abbiamo tanto da fare, abbiamo delle potenzialità enormi, è un mare meraviglioso, un porto altrettanto importante, però dobbiamo certamente crescere. Quanto siamo distanti da queste realtà al top? La distanza c'è, è inutile nascondersi, il gap ci sta, però questo è un vantaggio e uno svantaggio. Lo svantaggio è che abbiamo ancora parecchia rotta da seguire, ma il vantaggio è che la rotta è quella giusta. Abbiamo la possibilità di renderci conto adesso, perché realmente noi finalmente ci siamo resi conto che viviamo in un contesto internazionale, che potenzialmente questa parola di potenziale, la parola potenziale, la potenzialità, la potenzialità l'abbiamo sentita in ogni possibile salsa, ma ancora non c'era la contezza di come riuscire a coniugare la potenzialità con la fattività. Siamo finalmente sulla strada giusta. Perché io sono convinto che siamo sulla strada giusta? Perché quello che è mancato fino adesso, una delle tante cose, ma forse è la più importante, è stata l'attenzione nei confronti del territorio da parte di quelli che erano questi e coldere economici fondamentali. Noi abbiamo avuto un senso di abbandono abbastanza importante che ci ha portato a vivere in una sofferenza economica, commerciale e sociale che purtroppo viviamo. Ma adesso siamo realmente sulla strada giusta e rendersi conto che il porto, qua parliamo ovviamente di quello che è il nostro settore e il traffico marittimo internazionale, sono, devono e saranno uno dei volani principali dell'economia di questa città. Perché i traffici marittimi sono in continuo movimento, le infrastrutture che sono state fatte grazie all'attenzione lungimirante dell'autorità portuale, realmente faranno in modo che questo porto diventerà una stella di prima grandezza del Mediterraneo. E la consapevolezza degli operatori che insistono nel territorio e sono del territorio, io sottolineo questo senso di appartenenza, fare in modo che qualcosa di immateriale e romantico come il senso di appartenenza possa diventare una spinta ulteriore a velocizzare un processo produttivo. Cosa chiedete alle istituzioni per rendere un servizio sempre migliore? Fondamentalmente quello che noi chiediamo alle istituzioni è di mantenere alta l'attenzione è di ascoltare le voci e le professionalità espresse dalle aziende tutte del territorio. Ovviamente noi ci poniamo su quello che è il nostro campo, che è quello portuale, è di mantenere alta l'attenzione di ascoltare, di fare proprie le nostre istanze e di snellire quando chiediamo di snellire nei limiti del possibile, perché ovviamente l'azienda privata avrà sempre delle richieste che magari potrebbero essere anche un po' troppo per chi ascolta, ma lo scambio di informazioni e l'attenzione nel ricevere le nostre richieste è una delle cose più importanti. Quindi continuare ad ascoltarci e lavorare insieme, perché questo scambio è la base della costruzione di un futuro. Per concludere la nostra chiacchierata, Taranto vive la realtà dura, triste della monocultura dell'acciaio. Il mare come strumento per diversificare la nostra economia. È importante quello che fate, perché parlare di porto, parlare di mare, significa davvero far emergere la vera, il vero DNA di Taranto che è il mare, perché madre natura, perché il padre eterno ha collocato Taranto sul mare e noi dobbiamo vivere di questa risorsa. Sì, assolutamente, visto e considerato che Taranto deve la sua fondazione proprio in virtù di essere una città costiera, la città costiera con un ridosso naturale così importante, qua è già il Golfo di Taranto, all'interno del Golfo di Taranto noi abbiamo la rada Margrande che è l'unica rada interna del costiero italiano, dove c'è la possibilità di sfruttare i fondali profondi, c'è la possibilità di utilizzare le infrastrutture che negli anni sono stati creati. Taranto è naturalmente, logicamente, per la lunghezza delle banchine, per la professionalità degli operatori che abbiamo espresso fino adesso tutti, è il porto naturale e logico per qualsiasi tipo di traffico. Quindi io sono realmente ottimista e parlo in prima persona, nome per conto di tutte le donne e gli uomini che lavorano con Ionian Shipping, ma anche a livello portuale. L'ottimismo è qualcosa che non può essere solo ed esclusivamente regato al novero dell'ottimismo, qua si parla di realismo perché la realtà di poter portare avanti un discorso produttivo internazionale con un outlook positivo è una realtà che noi cominceremo a vedere anche in un futuro non troppo remoto. Un'ultima chiosa, hai fatto riferimento, ecco ora mi veniva in mente, hai detto io ho dovuto studiare altrove perché non c'era all'epoca un nautico a Taranto, ora grazie al cielo noi stiamo anche collaborando con l'Archimede e con l'Istituto Nautico. E' importante che una città di mare abbia ovviamente un istituto nautico, trasporti e logistica è la dicitura ufficiale, ecco proprio per far sì che queste esperienze, perché la formazione nasca a Taranto. La formazione, la formazione professionale è la base di partenza di ogni tipo di professionalità. la voce più importante di ogni azienda del settore marittimo, la voce di spesa più importante è quella della formazione del personale, perché essere in pronto impiego in un settore così complicato, variegato e caledoscopico, quello del trasporto marittimo, per noi riuscire ad avere un'interfaccia come ce l'abbiamo con gli istituti superiori, gli enti di formazione, l'università per noi è fondamentale, è una base di partenza imprescindibile. La formazione professionale per noi è e sarà una delle voci di speranza per poter progredire in questo settore, sulle quali ci teniamo davvero tantissimo. Bene, e allora io ringrazio il capitano Luigi Guida, l'amico Luigi per questa bella chiacchierata, avremo modo di incontrare nuovamente lo Ionian Shipping Consortium, conoscere altri momenti, perché questa è una realtà che fa davvero crescere il territorio. Allora quando, lo ripeto, parliamo di ilva, parliamo di monocultura dell'acciaio, però quando parliamo di mare, di porto, di risorse naturali, beh io penso che una realtà del genere vada valorizzata e non lo dico per piageria, rappresenta davvero una perla, una perla che si staglia sul nostro mare.